ciao a tutti sono ele benvenuti al mio canale oggi ci focalizziamo sulla seconda parte del manga di nana di ayazawa se avete seguito la prima parte se non l'avete fatto vi invito a recuperarla saprete che io sono una neofita di questo universo e perciò vedrete le mie reaction lo sto scoprendo insieme a voi riscoprendo avevo letto qualche volume tantissimi anni fa adesso ho saputo anche questo manga è stato interrotto nel 2009 quindi l'avrò letto una ventina di anni fa l'avevo abbandonato ad un certo punto per quanto alcune cose mi fossero molto piaciute e ecco sicuramente una delle cose che mi erano piaciute come a tanti erano nana osaki e renna ma più nana osaki adesso vedo e una delle cose che proprio non avevo sopportato durante una prima lettura era proprio il personaggio di nana komatsu che era una piaga per me sembra questa seconda parte questa introduzione del personaggio di nana osaki quasi un altro manga e mi è venuta un'ipotesi sono anche andata a leggermi una biografia scarna quella su wikipedia della yazawa nana komatsu forse è la persona che è a yazawa mentre nana osaki è la ragazza che lei avrebbe voluto essere io se mi seguite un attimo saprete che mi specializzo in analisi psicologiche pur senza alcun tipo di preparazione universitaria in merito quindi sono solo mie osservazioni che voglio condividere con voi a modi chiacchiera però insomma sia nell'introduzione del personaggio di nana komatsu che in quello di nana osaki nana ogni tanto lo dirò con l'accento all'italiana vedo un background familiare che spiega comunque questo loro bisogno di essere amate che uno potrebbe dire è comune comunque a tutte le adolescenti o comunque tante persone ma quasi tutti i personaggi della yazawa a parte i non protagonisti hanno questo bisogno viscerale di essere compresi totalmente da qualcuno amati al punto che possono fare enormi sacrifici rinunce sono disperati o meglio disperate quando non vengono amate nello stesso modo nana komatsu era una figlia di mezzo io l'altra volta vi avevo detto questa sembra una ragazza che ha avuto o un padre o una madre che non l'hanno mai supportata o amata nel modo in cui lei avrebbe voluto pertanto lei mi indica amore da qualunque uomo si mette insieme a qualcuno perché ha bisogno che qualcuno le dimostri che lei è degna di valore di amore e come vi dicevo una delle cose che trovavo strane non c'è nessun background familiare di nana komatsu dove è nato il suo trauma non ce lo dice per questo vi dico che secondo me rappresenta la yazawa che non ha ancora risolto nella propria testa o almeno nel periodo in cui stava scrivendo questo nana da dove veniva questo suo trauma non l'ha mica capito ecco mentre in nana komatsu era poco comprensibile perché viene da una famiglia comune insomma quasi mamma e papà due sorelle una sorella maggiore una sorella minore in nana osaki invece è molto più chiaro perché è stata abbandonata dalla madre non ha mai conosciuto suo padre e diciamo che funziona anche di più a livello narrativo perché è piena di l questa ragazza e quindi comprendiamo perché sia così tormentata anzi a differenza di una nana komatsu che è cresciuta coccolata nana osaki invece si è dato da fare nella vita shannara dice è sempre andata molto ciao a tutti coloro che mi stanno seguendo nella chat shannara diceva è sempre andata molto questa teoria anche per il rapporto disfunzionale che si va a creare tra le due nana cioè che fossero due versioni della yazawa è appunto amati in maniera totalità totalizzante dice sempre shannara o tutto niente quasi soffocante sì esatto comunque questo è appunto il background della nostra nana osaki non ho mai visto il volto di mio padre dice e ho dimenticato completamente quello di mia madre che se n'era andata quando lei aveva appena quattro anni è stata allevata da una nonna che l'ha continuamente paragonata alla madre una ragazza facile che si è fatta mettere incinta e quindi la nonna tra l'altro è stata parecchio severa con la povera nana osaki per cercare insomma di farla crescere diversamente dalla figlia allora questo questa estetica poi da punk barra emo io dico emo io sono della generazione che avrebbe potuto essere una ragazzina emo no scusate brutta frase io sono della generazione degli emo per età avrei potuto esserlo e invece io personalmente li guardavo come un qualcosa di diverso da me troppo emotivi però questo nana un po descrive e cattura bene quell'emozione dell'epoca nana osaki si presenta buonasera a tutti siamo i blast e qui vediamo che questa è la cantante di un gruppo front woman potremmo dire guardate molto diversa dalla komatsu che insomma è lì che non non è nulla di speciale non si dà da fare nella vita e invece questa ragazza non solo ha questa estetica così brutale in un certo senso pur molto femminile ma è figa insomma sta tra gente figa guardiamo anche quell'altro lì a torso nudo accanto a lei che genere musicale cantavano rock qualcosa di simile e hanno addirittura dei fan non so se conoscete o magari avete conosciuto tramite nana la cultura dei fan anche dei piccoli gruppi in giappone mi ricordo che una volta vi di questo documentario penso su netflix a volte basta avere un piccolo seguito di appassionati folli di solito uomini adulti otaku che vanno dietro ragazzina ma non per forza dal punto di vista sessuale una ragazzina può mettersi a fare la idol ma proprio a livello di piccoli circuiti tipo andando manco in discoteche in piccoli stupidi locali con 50 fan alla volta per dire ma gente che va in tour con loro quale tour poi li seguono dappertutto e c'è questa cultura dello scambiarsi regalini e c'è gente che va avanti così almeno nella propria giovinezza e infatti anche loro hanno un loro seguito particolare e ci sono molte ragazze che non sono lì solo per il figone renna ma anche per la nostra protagonista ovvero nana osaki altre ragazze una di loro in particolare che si chiama misato e si ricorda il suo compleanno le ha comprato qualcosa di specifico per il compleanno di vivian westwood una grande passione della yazawa e vediamo che in questo momento nana sta compiendo 18 anni la maggiore età completa in giappone si raggiunge ai 20 anni i 18 non sono quelli in cui si acquisiscono tutti i diritti per esempio non si può votare se non fino a 20 anni shannara dice ren totalmente ispirato a sid vicious ecco la mia cultura musicale rock penso che sia è pari a zero o quasi ecco guardate in cambio del regalo nana osaki dà un bacetto sulla bocca tra l'altro a misato allora come stanno messi in giappone oggi ma anche allora dal punto di vista dei diritti degli omosessuali voi direte che c'entra nana osaki non lesbica sì però ci gioca con questa cosa siamo negli anni 2000 allora già una decina d'anni prima con sailor moon e ancora prima con magari lady oscar lady oscar e rosalie vi ricorderete c'è questo giochino in giappone del accettare che una ragazza vada dietro ad un'altra ragazza purché la cosa non si concretizzi viene detto che si tratta quasi di un sentimento non tanto di amore è più ammirazione mista ad amore nel senso guardate questa misato magari vorrebbe essere come nana e per questo la segue questo è il modo in cui se la raccontano in giapponesi specie nelle scuole solo femminili è molto accettato senza che la cosa venga trovata più di tanto perversa dipende fino a che punto si spinge che una ragazzina si invaghisca di una compagna di classe più grande ma da lì all'avere una relazione e soprattutto questa cosa non trova poi riscontro nella società degli adulti intendo a livello legale ma non solo anche a livello sociale soprattutto in un giappone ancora molto patriarcale maschilista come donne esisti per sposarti fare dei figli ed essere una brava moglie che si prende cura del marito quindi a livello legale può darsi che tu possa formare una famiglia con un'altra donna posto che appunto si può formare famiglia semplicemente mettendosi in uno stesso cosechi che è un registro familiare ma poi non significa che chissà quali diritti ok e quindi per farvi capire che soprattutto a livello di manga ci giocano parecchio con questo questa omosessualità che alla fine è un sentimento di ammirazione allora Shannara dice Misato non dimenticatevi di lei che tornerà più avanti sì sì no questo me lo ricordo comunque e Nana comunque è molto diversa no? da Nana Komatsu lei che pensava di essere un po' ananulità stava a mendicare non solo amore ma anche attenzione anche a livello di amicizia da chiunque con l'amica June che non si poteva neanche permettere di andare a studiare in un'altra città senza che Nana Komatsu dicesse oh portami con te Nana Osaki è una che flerta allegramente lo sa di essere una bella ragazza e si prende i regali della gente non si sente grata per l'attenzione che riceve lo sa che un po' se la cerca non è una che ha così tanta autostima nonostante tutto come vedremo tra poco però la vita è stata crudele con lei fin dal principio e lei quindi è una che sa proteggersi dal mondo esterno vediamo poi che come si fa spesso in Giappone beh anche qui in occidente però vedete questi localini in cui vanno loro vanno a bere in questi localini con tavoli bassi eccetera di solito dopo il lavoro si fa anche quando si lavora come dipendenti e loro in particolare vanno a bere così dopo questa serata che hanno avuto dopo questo concerto e qui veniamo a sapere tante cose dei personaggi in una sola pagina e già vediamo personaggi estremamente più interessanti rispetto a quelli inizialmente descritti per esempio abbiamo questo ragazzino nobu che è felice perché non era un concerto loro unico era una serata con più cantanti però la gente è venuta a vedere loro vediamo il pelatone che si chiama Yasu Nana intanto sta prendendo il suo regalo e scopre che è una giacca di Vivian Westwood che sarà accostata alla misatina o un occhio della testa però insomma è così fan sfegatata che gliela ha regalata e quest'altro Ren dice a quest'ora le altre fan che in effetti stavano seguendo anche loro Nana secondo Ren stanno andando a sbranare la povera Misato e vedete guardate la sicurezza dei Nana Osaki cosa credevi i miei baci costano cari cioè se le altre vogliono qualcosa di simile dammi anche tu la giacca di Vivian Westwood e infatti Ren se la ride mostro guardandoli qui non si capirebbe che hanno una relazione come si capirà tra poco sembrano amici comunque e nel mentre scopriamo tante cose ovvero Nobu sta bevendo ma Nana gli fa presente tu domani hai il diploma e Ren la prende in giro e il tuo diploma quando è il suo diploma non ci sarà mai perché lei ecco a differenza per esempio di una Nana Osaki che ok di una Nana Komatsu scusate che ok fa fatica ad entrare all'università almeno l'ha finita la scuola Nana Osaki no ho lasciato il liceo a metà qualcuno avrebbe voluto anche vederla in divisa scolastica ovvero questo amico Yasu Nobu che era un suo ex compagno immagino diceva meglio di no faceva venire la pelle d'oca in effetti sembra nata con questi vestiti un po' punk addosso e non è di nuovo una Nana Komatsu che si deve attaccare a qualcuno come una cozza Nobu ci dice che questa Nana Osaki in classe stava sempre da sola capiamo subito che non è una ragazza che ha bisogno di qualcuno per per essere felice insomma e di nuovo ci sono queste scene tipiche della Yazawa che vi dicevo che hanno contribuito a far la sua fortuna lei ti fotografa queste risate che in realtà sembrano momenti rubati perché la sua storia vera e propria è quasi sempre un momento di felicità proprio rubato a un destino drammatico e eccoli lì Nobu che comincia a fare banzai cioè urrà per quello che stanno facendo e poi come un cretino qualunque cade tornando al mood che vi dicevo per questo secondo me questa storia ha avuto così tanto successo tra gli adolescenti perché quando siamo adolescenti noi ci vediamo come eroi tragici di una vita ingiusta ok piena di ostacoli irti e il nostro eroe la nostra eroina nel nostro caso di ragazze ce la farà a sopravvivere ecco la Yazawa ha catturato benissimo questo mood e nel mentre veniamo a sapere qualcosa in più di Yasu che in realtà è figlio di un avvocato e quindi accompagna Nobuo a casa col taxi mentre invece Nana adesso non dirò più ogni volta il cognome Nana e Ren vanno a casa da soli e addirittura Ren prende in giro Nana tanto un giorno tu ti farei arrestare quindi dovrei essere difesa da Yasu o da un avvocato della sua famiglia e lei invece di dire perché mi prendi come teppista dice solo non mi farò mai acchiappare poi capiremo un po' perché ha questa sensazione di essere una cattiva ragazza martedì c'è la storia di Misato è più complicata del previsto vedo che avete voglia di spoilerare a me almeno Angel mi saluta saluto comunque tutti quanti coloro che sono arrivati anche Sonia allora è un primo mistero perché finora ce li hanno presentati nel giro di poche pagine scopriamo che Ren ha qualcosa da dire a Nana e questa cosa Yasu la sa però Yasu ricorda Ren gliene parli e non si capisce subito di che cosa si tratta mi piace molto poi che questi personaggi si sanno prendere in giro Ren prende in giro Yasu è che Yasu è diventato uno skinhead perché un bel giorno si è svegliato e mi fa troppo ridere Yasu che dice chi ride dei calvi morirà pelato e vedete di nuovo queste risate apparentemente spensierate gli altri tornano in metropolitana è molto felice Nana Osaki perché si è sentita da dio lo spettacolo è andato benissimo scherzano a livello sessuale meglio di quando lo fai fai cosa sesso con un uomo dipende da chi è risponde lei vedete una ragazza sicura di se stessa almeno in superficie Ren ride ecco lo sguardo che fa Nana in quel momento indica che nonostante la sua mi viene in inglese la sua bravado cioè la sua ostentata sicurezza in sé alla fine lei è un po come tutte le altre ragazze ovvero ogni tanto si ferma a guardare incantata una persona come Ren e Nana dice oddio fa troppo freddo la mia voce divina adesso viene rovinata si cercano nei regali che hanno ricevuto dai fan qualcosa trovano una sciarpa in cui qualcuno ha ricamato Ren lei non è affatto gelosa anzi se la mettono insieme di nuovo in tutte le parti in cui c'è la felicità vedete queste che ho sottolineato in azzurro c'è silenzio di solito perché se possiamo trovare una struttura nei manga della Yazawa è sì parti in cui scherzano per la maggior parte è o commedia o dramma ma dramma profondo e le parti di felicità un po così idilliaca perché questo è un idillio silenzio assoluto il che le rende ancora più poetiche vedete che manca persino il colore è tutto bianco non so se poi cambierà stile però serve a cristallizzare il momento è come uno spingerci a concentrarci su queste linee che delineano appunto la felicità dei personaggi poi sono tornati a casa e oh oh tornati alla loro casa ren nana ren honjo e nana osaki e io mi ricordo vi trasmetto le sensazioni della piccola mia adolescente che lesse lesse questa cosa che rimasi proprio cioè già avevamo visto nella parte di nana komatsu lei che andava a letto con un ragazzo così che tra l'altro nana komatsu è una che va a letto per ottenere amore però ecco negli shojo che c'erano stati fino a quel momento intendo in italia la parte della sessualità era sempre molto floreale qui invece abbiamo un manga più adulto per l'epoca con persone che stanno in questo momento di intimità nudi dentro la vasca senza saltarsi addosso ok questo rendeva la cosa ancora più imbarazzante per le forze le lettrici dell'epoca se non più imbarazzante più stuzzicante un'altra delle ragioni per cui all'epoca catalizzo tanta attenzione angel dice mi ha ricordato harry sta diventando pelato pure lui ci ho pensato anche io se conoscete meglio il mio canale saprete che io parlo anche dei reali d'inghilterra e in effetti il principe harry ha preso in giro il fratello maggiore william perché stava diventando pelato ed era meglio se non lo faceva perché pure lui ha iniziato a perdere i capelli comunque con un espediente intelligente che è sicuramente costruito ma che non risulta forzato la yazawa ci racconta la storia di come ren e nano si sono incontrati e lui in pratica prima apparteneva a una band diversa lei lo era andata a trovare e in realtà non era stata immediatamente affascinata da lui o così pareva nel senso che lui si ricorda molto bene tra l'altro ecco la sigaretta tipica degli anni di quegli anni lì oggi non lo farebbero vedere credo o quasi allora faceva molto figo oggi avrebbe il vapo vape come come no il vapo è il rob contro le zanzarie vedete che non so manco come si chiama sarebbe vapando ecco ren invece di avere la sigaretta ren si ricorda che non ha lo fissò per tutto il tempo ed era pure una ragazza irritante insomma dopo il concerto nobu la portò nel camerino e lei non fu particolarmente dolce con lui e ren ci rivela un altro dettaglio del passato di nana l'hanno sbattuta fuori dal liceo a metà del liceo perché la beccarono mentre batteva il marciapiede cioè si prostituiva e lei adesso si erge in propria difesa non è vero era tutta una montatura dopo tutto sei tu che mi hai rubato la virginità no che poi mi hai rubato cosa ecco anche qui lei che salta fuori dalla vasca e si vede insomma la forma del seno allora era una roba a metà tra cos'è addirittura mostrare così i dettagli anatomici però ovviamente non c'è nulla di volgare anzi è molto non proprio stilizzato ma comunque molto fine quel modo di disegnare i corpi dalla yazawa martedì dice io ricordo che rimasi molto sorpresa nel vedere questa scena perché era inaspettato in effetti la storia di nana osaki e ren parte in medias res cioè noi non vediamo come si mettono insieme mentre noi seguiamo abbiamo seguito la storia di nana komatsu ok abbiamo visto che è stata mollata da un tizio più vecchio di lei ma poi si stava mettendo con quel shoji lì esatto quindi in un certo senso siamo iniziati abbiamo l'abbiamo seguita fin dall'inizio chiamiamo così di una di una sua vicenda heartbreak cioè cuore spezzato e ricerca di nuova felicità e poi la trova qui invece è già fatta tra l'altro loro due sembrano perfetti molto in sintonia scherzano assolutamente stanno ovviamente vivono insieme vanno a letto insieme quindi in effetti dovevamo aspettarcelo tutto questo può solo andare più giù non può andare più su shannara ride per il lucchetto al collo si è vero erano molto portati a indossare gioielli e quant'altro e adesso nana ci rivela che in realtà lei non si oppose alla cacciata dalla scuola perché aveva già intenzione di lasciarla per andare a lavorare e è come se di questa cosa non avessero parlato per la serie nana non è che confida tutto di sé neppure a renna nana lavorava con sua nonna nel ristorante la nonna probabilmente non solo era proprietaria ma anche quella che ci lavorava il cameriere tutto e quindi la nipote la aiutava ma era una nonnina severa non le ha mai dato una lira o uno yen e ren ride di questa situazione e possiamo capire un po perché nana sia una ribelle è chiaro che era una ribelle all'epoca per questo taglio dei capelli tra l'altro capelli così corti e le stanno comunque benissimo questi abiti sexy ma al contempo come vi dicevo un po bruschi violenti nel loro essere nero e varie accettature simili è sempre stato così ci racconta fin da bambina gli altri ragazzi se la spassavano grazie ai soldi dei miei genitori dei genitori scusate e lei invece i genitori non li aveva praticamente aveva una nonna che era cosa come la signorina rottermeier con haidi e quindi sapeva solo educarla a suon non proprio di punizioni ma una vita dura insomma eppure nonostante questo come molte persone alla fine nana perché quella nonna era l'unica persona che si era presa cura di lei tende a giustificarla dice ti dirò ultimamente ho cominciato a provare gratitudine nei confronti della nonna almeno lei mi ha cresciuto non mi ha abbandonato come mia madre che quando avevo quattro anni mi ha lasciato alla porta della nonna davanti alla porta della nonna e ciao ciao nana si rende conto deve essere stato difficile per una donna sola gestire un ristorante e allevare una bambina sicuramente difficile ma non devi essere una donna comunque dura che rinfaccia continuamente alla nipote attenzione non diventare come tua madre infatti lei proibiva addirittura di vestirsi con abiti carini ecco perché anche lei sceglie poi abiti anche abbastanza revealing cioè che mostrano un po il suo fisico perché questa era una cosa che la nonna disapprovava eppure adesso nana si sente un po in colpa pensa addirittura di aver ucciso la nonna con le sue mani è un tipo di rivelazione che si vede che renna non è abituata a sentire all'inizio la prende in giro cioè l'hai buttata giù dalle scale e nana dice no anche se a volte avrei voluto farlo l'ho fatta morire per lo shock per la della mia espulsione da scuola nel senso che dopo che ebbe saputo la nonna che l'hanno buttata fuori perché lei si era data la prostituzione non era vero ma nana non perse tempo allora a convincerla i rapporti non erano buoni ma questa nonna dopo un mese si ammalò e morì insomma e quindi adesso nana è un po pentita però poi ricorda anche che la nonna le diceva cercano di non diventare come tua madre quando ero piccola si rifiutava di farmi indossare vestitini tutti pizzi e trini però in fondo anche io ero una femmina e quindi alla fine volevo mettermi cose belle però si sentiva in colpa di solito infatti un carattere come il suo deriva almeno secondo me da un po una repressione vedete di nuovo i momenti più sognanti poca china molte linee ben definite in bianco quando mia nonna morì io rimasi sola decise di premiarmi comprando un regalo di natale con i soldi guadagnati lavorando part time e si mette un vestito con le balze molto femminile ma comunque particolare e come mai si mise quel vestito che adesso scopriamo che era rosso per quanto non si veda qui nobù le aveva detto che voleva presentarle un ragazzo favoloso si sentiva tese il ragazzo favoloso tra l'altro era lui e di nuovo questa scenetta qui con l'altro che le afferrò un seno io ero lì a non ricordo neanche quanti anni avevo e ah cosa sto guardando mi sentivo fuori posto nel leggere questo mani comunque rana adesso le rivelava che al tempo la trovò anche lui molto bella però lei sembrava immune al suo fascino e quindi questa cosa gli dava fastidio e flashback adesso non ce lo raccontano più solo loro il discorso con cui ci hanno presentato la loro storia comunque è stato abbastanza naturale no perché si sono rivelati dettagli che non conoscevano nobu conosceva ren da dalle medie e porta questo questa nana da lui il rapporto che c'è tra nobu e nana ricorda un pochetto quello che c'è tra giunco e nana komatsu con nana osaki che fa la parte della giunco della situazione tu li vedi e capisci che nobu è il più entusiasta un po il più debole fra virgolette della coppia mentre lei è quella che forse non avrebbe bisogno di lui ma se lo tiene attorno perché lui è allegro e ecco qui attraverso la voce di nobu che noi conosciamo la storia di ren e tutto ciò abbastanza comunque intelligente da un punto di vista narrativo perché la yazawa ci fa conoscere prima di tutto la storia di nana osaki mentre la racconta a ren e perché hanno parlato del suo passato perché in un qualche modo nel discorso che avevano fatto a tavola con gli amici era venuto fuori e quindi per quello stavano parlando dei loro inizi ma sarebbe stato forzato per esempio che lei dicesse sì il mio passato era così 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 e ren iniziasse a parlare delle sue cose altri autori autori meno navigati della yazawa avrebbero commesso questo errore facendo diventare la scena ridondante e invece qui la yazawa ci porta in un'altra scena una scena dentro la scena di fatto perché come vi dicevo era già un racconto e questo è un ulteriore flashback e ren comunque e nana si sono in un certo senso più classici come protagonisti perché sono piene di sfighe quasi tutti i grandi eroi delle varie storie sono orfani e infatti anche nana è mezza orfana il padre non l'ha conosciuto ma ren è peggio di lei ok infatti questa cosa si va a prendere le emozioni e l'empatia sicuramente degli adolescenti che leggono questo manga ren è stato abbandonato alla nascita e si è addirittura parlato di questo abbandono al telegiornale come vedete nana osaki dice ma non raccontare a tutti questa storia cioè poverino non c'è bisogno e nobu dice ma scusa ren è fiero è fiero delle sue origine lui va a raccontarlo dappertutto anzi siccome vuole diventare una rock star un giorno questa cosa gli fa comodo non dice che non sono molte le persone che hanno fatto parlare di sé fin dalla nascita lui si ritiene anche adesso un ragazzino del porto quello è il suo logo naturale la sua patria il fatto di aver avuto un'infanzia così tragica torna tutto a suo favore questa è la yazawa che in realtà lo dice in un certo senso anche a noi la nascita tragica di ren e il suo background serve le serve tantissimo è facile prendersi le simpatie del lettore così e lei lo sa vedete al contrario stava facendo più fatica paradossalmente con nana komatsu forse lì stava descrivendo se stessa qui descrive dei personaggi che è più semplice che funzionino su carta e ogni tanto ricordo ricordo che c'è anche questa non sindrome questa deriva in tanti adolescenti ogni tanto uno preferirebbe pensarsi orfano no magari mi hanno adottato è una storia tragica qualcosa del genere vediamo che cosa ne dice anche la osaki sfruttare le proprie disgrazie per ottenere le simpatie della gente mi pare molto squallido a me sembra di nuovo l'autrice che riflette su se stessa in un certo senso forse trova squallido aver dovuto dare questo background tragico sia alla osaki che a ren per farli funzionare meglio però non è la prima che lo fa nell'ultima da dickens quando decise di parlare insomma dei più poveri ha sempre funzionato non solo per quanto riguarda lui vediamo la prima immagine di ren che anna osaki ebbe al tempo era già pronta a detestare questo ragazzo insomma che aveva deciso di sfruttare le proprie o la propria storia tragica personale anche perché lei per esempio non lo faceva voi sapete che se lei fosse stato non anna komatsu avesse avuto qualche sfortuna lo andava a raccontare al mondo invece non osaki se lo teneva per sé e era già pronta quindi a trovare antipatico quest'altro che sfrutta la propria sfortuna o apparentemente per quello che lei sente da nobu e invece poi c'è questo momento disegnato molto bene di nuovo in cui noi sentiamo che i loro due sguardi si incontrano e in effetti capiamo perché lui era rimasto di stucco nel senso che lei non lo sta guardando ammirata come farebbero nana komatsu lei lo fissa lo fissa ed è come se fosse perplessa come se nutrisse sfiducia e lui stava guardando qualcun altro di nuovo la risata un momento rubato e poi la serietà del ci siamo trovati marty dice nella chat posso dire che esteticamente ren non mi ha colpito troppo sempre preferito di più shin fatta eccezione per yasu dicono dice shannara i personaggi maschili in nano non fanno una bella figura immagino di sì e sapete perché secondo me perché se la yazawa è come nana komatsu lei se li sceglie col lanternino la komatsu non se li sceglieva col lanternino quelli i più bastardi possibili i più cretini più immaturi e non è che erano tutti così gli uomini anche se finiva col dirso le poi contro trovavo un bravo ragazzo non finiva per frenzonarlo comunque non dargli l'attenzione che il bravo ragazzo sarebbe meritato secondo me se uno si comporta come nana komatsu che va a cercarsi gli uomini in realtà se li sceglie apposta quelli più distanti perché vuole rivivere il dramma della sua infanzia e trovare un uomo che dopo essersi comporta comportata in maniera distante con lei invece diventi affettuosa e quindi curi la sua ferita originale ecco se uno si comporta così troverà sempre uomini bastardi e finirà per avere appunto un'impressione negativa di tutto il mondo nonché in realtà la yazawa in tutto questo nonostante tutto ed ecco perché funziona anche la sua storia lei ha grossi drammi secondo me altrimenti non racconterebbe una vicenda come questa ma al tempo stesso comunque è abbastanza matura da sapere che l'atteggiamento della sua komatsu e anche della osaki ad un certo punto sarebbe sbagliato e che in realtà ci sono brave persone tipo yasu tipo giungo ma lei non interessa raccontare di questa gente stabile perché nella stabilità c'è la noi e che cosa aveva provato comunque osaki vedendo per la prima volta renna si trattava piuttosto di invidia mista gelosia cioè lo vede così carismatico non non si butta ai suoi piedi non desidera immediatamente il suo amore lei dice desiderio anche quindi è già più in contatto con la propria fisicità non fa come la komatsu che usa il proprio corpo per ottenere l'amore di un uomo semplicemente si capisce lei per quanto sia sempre in quell'epoca soprattutto una un adolescente lei fa le cose perché le piacciono e quindi ad un certo punto non va con renna nella speranza intendo a letto di accaparrarsi il suo cuore semplicemente perché perché vuole vivere questa esperienza quest'altro momento o proprio molto erotico di fatto sta facendo sesso nella casca però disegnato con estrema delicatezza benissimo ma allora era proprio una rivoluzione come vi dicevo i momenti però di gioia in questo caso gioia fisica sono tutti un furto rispetto al dramma continuo della vita ancora oggi è il pensiero di non osaki a cado in preda all'ansia e in effetti ci metti ansia perché sto sono felici sono belli insieme scherzano si amano convivono siamo già al troppo si possono cadere e infatti cadranno tra poco e i due infatti come sono finiti a vivere insieme e che cosa prova naosaki ed ecco qui abbiamo la deriva alla komatsu mi sembra un sogno impossibile dice nana perché per una come me abituata a strisciare ai piedi degli altri non ci sembra una che striscia però ok è un tipo di strisciamento diciamo diverso rispetto a quello della komatsu ren è come un sole troppo brillante a volte ho la sensazione che per quanto lo desideri non riuscirò mai a raggiungerlo veramente quindi alla fine la yazawa non può fare a meno di dare questo carattere anche alla osaki ci sta ok anche le persone più sicure a volte in realtà hanno grandi sicure insicurezze dentro però personalmente mi sentivo più vicina per esempio a una nana osaki che fa la forte fuori ma nel mentre non striscia affatto e infatti neanche quando ha conosciuto ren lo ha voluto tanto da girargli intorno da fare la tenerella come faceva la komatsu no è proprio per questo in realtà lo ha conquistato e noi lo sentiamo penso nonostante tutto che lui è stato attratto dalla sua sicurezza dal fatto che lei non gli sia accorsa dietro dopo scherzano piuttosto abbastanza la osaki dice mi piacerebbe farlo in un posto più grande e lui dice sì in effetti questa stanza è piccola no 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 non fare quello un concerto in un posto più grande mi piacerebbe tanto e stando insomma a chiacchiere post coito anche la osaki sta fumando e a quel punto le viene in mente ah Yasu di che parlava prima silenzio tipica scelta maschile no quel pelatone non sa di che parlava e lei non ci casca si vede che lo conosce già questo dettaglio che ci viene rivelato adesso va contestualizzato anche all'interno dell'epoca storica chiamiamo così ad effetto sono almeno 20 anni fa anche 25 se non erro quando è iniziato il manga di nana mi ricordo che l'anima era iniziato nel 2002 manga nana è importante nel 2000 infatti perché adesso nanasaki dice devo prendere la mia roba dice devo assumere qualcosa e l'altro bastardello tutti così drogati è una presa in giro anche rivolta magari al pubblico ok perché al tempo le persone come loro insomma che si vestivano un po strani soprattutto in giappone dove bisogna uniformarsi la massa venivano visti come dei teppistelli anche gente che si drogava eccetera e invece nana non è una drogata è una brava ragazza si veste un po alternativa per l'epoca di nuovo e adesso chiarisce ma quale roba lo sa e tra l'altro lui lo sa prendo la pillola cretino no cosa faremmo se nascesse un bambino prima di andare oltre nella storia sappiate che l'assunzione della pillola in giappone almeno fino a un 5 10 anni fa non è affatto così comune come lo è qui in occidente qui in italia loro prediligono l'astinenza ma non come metodo di vita insomma tanto non sono gente che si dà molto al sesso casual anzi per quanto ci siano i love hotel no non tutte le questioni di sessualità eccetera in giappone è una cosa sono cose che si fanno ma di qui non si parla tanto perché non ce n'è bisogno ok preservativo più che altro la pillola la usava pochissima gente non mi ricordo adesso una in mente una cifra 2 per cento non so se le 2 per cento del 2 per cento di donne in età fertile o di tutte quelle che usavano contraccettivi spero che adesso la percentuale sia cambiata ma per farvi capire quindi un controllo delle nascite stabile non c'era esattamente eppure non è che adesso sono piedi di bambini come vi dicevo adesso riescono a contenere le nascite semplicemente perché non escono neppure insieme e fanno le cose virtualmente quindi non c'è pericolo mi ricordo che questo discorso tra l'altro mi sembrava molto adulto perché appunto si dimostrava responsabilità e in questo caso la responsabilità di nana era innanzitutto verso se stessa e infatti vedete gli mostra anche il dito medio no cosa faremmo se nascesse un bambino e lui è tranquillo e ricordo che al tempo a me questa cosa piace piacque tantissimo però vedete lei fa una faccia triste perché lui le dice nessun problema nel senso che invece di andare alle superiore io ho fatto il manovale quindi ho del risparmi potremmo anche permetterci un moccioso 2 comunque non è cosa carina sentir dire che non è un problema però lei non la prende esattamente così perché di nuovo significherebbe nella loro cultura che lei si riduce a quel punto a essere moglie e madre e non solo come da noi ok là è proprio incoraggiato ancora oggi ancora nel 2024 e molto più che in italia ok in italia è una conseguenza del fatto che non ti vogliono pagare lo stipendio mentre sei a casa col bambino di là invece non si tratta solo di quello anche perché se non erro non ci sono neanche queste protezioni economiche c'è proprio l'idea che tu ti devi occupare di tuo marito adesso che sei sposata quindi perché viene ancora lavorare la mattina siccome tuo marito lavora da mattina a sera tu dovresti cucinare e svegliarti alle 5 per cucinargli il bento no cioè il pranzo a portar via devi pulire la casa lui è il padrone di casa e tu devi servirlo questa è l'idea e soprattutto tra poco resterà incinta perché quello si presuppone di nuovo non usano tanta contraccezione e quindi perché stai ancora lavorando c'è una grossa spinta a buttare fuori le donne anche quando sono laureate e tutto una volta che si sono sposate per quello dicevo che l'aver figli non significa nel suo caso semplicemente vabbè possiamo averne uno e non è che devi rinunciare a tutti i tuoi sogni no lì significherebbe proprio rinchiudersi in quel ruolo lì nel manga diceva marted nella chat in generale c'è sempre la costante sensazione che debba esplodere una bomba o quando meno te l'aspetti esplode veramente sì sì è vero e come vi dicevo serve tantissimo a catturare comunque il mood dell'adolescenza in generale perché se gli adolescenti tendono a drammatizzare un sacco ma soprattutto in un certo senso una parte di noi desiderava che ci accadesse qualcosa di tragico perché potessimo essere i protagonisti eroi di una storia drammatica anche la maggior parte di noi più fortunati invece avevano una vita tranquilla e infatti lei dice tu forse ma io no voglio fare concerti non figli è una ragazza moderna e adesso vediamo che lui la prende insomma la bacia e sembra qualcosa di un po disperato e poi capì capiamo perché e forse era il motivo per cui aveva fatto questi discorsi perché così la teneva legata a sé posto che non aveva intenzione di farlo davvero però una parte della sua testa forse avrebbe voluto e infatti solo in questo momento mentre l'abbraccia così le dice nana io andrò a tokyo o quindi sentiti libera di vivere come preferisci e si vede che non è cattivo mentre lo dice ma adesso una parte di me pensa sapendo poi come la prende poveretto no poveretto è che lui deve vivere la sua vita eccetera un'altra parte di me quella più femminile pensa o avete appena fatto senso stavate parlando i figli eccetera adesso tu le dici andrò a tokyo quindi sentiti libera di vivere come preferisci praticamente la stai lasciando martin è detto bastardo virgola dice ma fare entrambi figli e concerti no non si può a parte che appunto logisticamente è difficile anche in un mondo occidentale non si può in giappone anche oggi ma allora ancora di più nessuno offrirebbe un lavoro a una madre che deve stare dietro a un bambino se ci si aspetta che la madre stia a casa col bambino fino ad un certo punto e poi adesso da qualche tempo appunto anche le madri lavorano infatti i bambini diventano indipendenti rapidissimamente perché gli asili ci sono ma penso costino parecchio poi vabbè c'è la scuola dell'obbliga eccetera a quel punto quando è bambino a sei anni non so se avete visto quei programmi in cui si fa vedere che i bambini a tre quattro anni li mandano a fare la spesa anche camminando da soli per strada una roba che qui in occidente ma perché devono diventare indipendenti rapidamente se non hanno una madre casalinga e anche così vengono incoraggiati comunque a diventare indipendenti ma è dura in ogni caso in genere deve esserci qualcuno che ci si occupa della casa e più che assumere personale di servizio è visto come un onore per la moglie occuparsene sono molto maschilisti come vi dicevo molto sessisti è il sogno di tante donne era il sogno per esempio di Naoko Takeuchi che fece sì l'ormone infatti lei proprio si è ritirata in un certo senso persino la Yazao l'ha fatta dopo un po' non si è mai sposata credo no però insomma ha una certa ciao lavoro soprattutto perché il mondo del lavoro in Giappone è considerato totalizzante nel senso che tu passi la tua vita a lavorare non che come qua tu lavori per vivere no no tu vive per lavorare lì gli uomini stanno al lavoro dalle otto del mattino fino alle dieci di sera che tornano a casa solo a dormire tornano a casa è un hotel la casa praticamente e quindi per questo a casa deve esserci qualcun altro e perché le donne quindi dovrebbero fare gli stessi sacrifici degli uomini annullandosi per il lavoro tanto vale che lo faccio solo uno no è una cultura problematica comunque adesso vi ho dato la reazione a questa notizia sganciata da questa bomba letteralmente sganciata sulla povera nana vi dicevo poteva solo finire peggio bella questa transizione c'è la spiaggia e Yazo che parla con Nobu e ecco mentre Ren due parole in croce così Yazo invece spiega che è successo qualcosa di bello a Ren e oggi da persona adulta io penso che Ren ha fatto bene a Tokyo dice Nobu ci va anche Yazo anzi no scusate Yazo ci andrà dopo come farai con l'università smetterai no no ci va Ren sapete perché c'è questa confusione sui soggetti perché in giapponese non c'è il soggetto nella frase spesso e infatti bisogna dedurre il soggetto dal contesto e infatti quindi deve specificarlo e si scopre che un gruppo che sta per debuttare quindi con un contratto discografico ha perso il il chitarrista era sì l'ha perso e quindi hanno chiamato Ren che sta per andare a Tokyo solo per un incontro preliminare ma praticamente è già stato scelto i trap che poi saranno i trap nest appunto e la cantante è una vocalist formidabile ora io vedendo l'anime di Nana e vedendo anche la cantante che avevano scelto per dare la voce a Nana Osaki pensavo ma anche Nana Osaki è una cantante formidabile mentre qui viene detto che la voce di Nana Osaki è più normale è roca ma la voce veramente bella in tutto questo sarà quella di Reira o meglio Leila la cantante dei trap nest e quindi cosa fa? Ren molla tutto molla i blast questa piccola band che avevano fatto perché in effetti era un gioco e considerato la vita che aveva fatto Ren al tempo io pensavo che bastardello che sei e infatti Nobu lo dice no? Cioè ci abbandona anche noi potremmo se ci impegnassimo debuttare no? Magari ci prendiamo anche noi un contratto Yasuo invece è un realista e questo è quello che mi piace comunque nonostante io dia sostanzialmente dell'immatura a lei a Zawa specie da un punto di vista emotivo barra amoroso alla fine lei comunque riesce a creare un conflitto tra i personaggi Yasuo dice non dire sciocchezze cioè Ren dovrebbe restare qui a cosa? No lui deve vivere il suo futuro e ha ragione a vent'anni stai per ottenere un contratto discografico che finalmente ti lancerebbe hai avuto una vita in cui nessuno ti ha mantenuto hai fatto il manovale vivevi sì addirittura un appartamento a quell'età persino però ti sei sudato ogni yen che ti sei guadagnato hai la possibilità di spiccare il volo e per che cosa dovresti rimanere indietro per giocare con gli amici per stare con la tua ragazza ok che comunque è molto giovane ed ecco Ren poi si capisce se la può trascinare dietro può chiederle di annullare tutti i suoi sogni può prendersi questa responsabilità a quest'età no ancora no quindi per quanto fosse bastardello ok da un punto di vista di nuovo emotivo femminile mi viene da dire bastardello che tra l'altro me lo dice così lo dico immedesimandomi nei panni di nanosaki è stato coraggioso ha fatto quello che altri uomini molto più pavidi di lui non avrebbero fatto cioè non avrebbero avuto il coraggio di lasciare si sarebbero fatti mollare e invece lui la molla lui sostanzialmente in maniera brutale ma necessaria e perché in questo momento è sbagliato che privilegi se stesso la sua sicurezza economica e che colga il balzo del sogno no è giusto così da persona più grande che potrebbe fare quasi da madre mi viene da dire hai fatto bene hai fatto bene non si può in questo modo però è anche vero che da ragazzina pensavo al tradimento vedete nobus pensa ma ci sta abbandonando quindi e si incavola cioè possiamo andare anche noi a Tokyo insomma facciamo qualcosa come facciamo con la nostra band eccetera lui si dispera e comunque anche se ci trasferissimo tutti a Tokyo fa notare Yasuo Ren diventerà un membro dei trap nest perché dice Nobu perché non c'è alcuna garanzia che i blaster riuscirebbero a debuttare e l'altro ma e se ci impegnassimo almeno ci possiamo provare per cosa per cosa Ren dovrebbe perdere questa occasione per una possibilità e infatti poi Yasuo è molto duro con Nobu tu sei il figlio di un direttore credo di una catena di hotel tu hai la vita sistemata io pure in un certo senso Ren chi lo salva mentre noi stiamo giocando mentre stiamo provando ad acchiappare questo sogno e quindi Nobu di fronte al realismo un po' si arrende però una parte di lui ce l'ha con Ren anche per Nana nel senso li ha presentati lui in un certo senso e adesso quindi che succede Ren sta abbandonando Nana Yasuo dice è una donna adulta e indipendente in realtà sì è sia adulta che indipendente ma essere mollata così non è il massimo Yasuo dice se vuole andare con Ren ci andrà aspetta a lei decidere sono certo che anche Ren la pensa così e infatti Nana secondo me avrebbe potuto dire vengo con te continuiamo a vivere così insieme però vedete che a quel punto viene meno una delle cose che le legava loro erano musicisti nella stessa band lei la cantante nella band in questa sta per andare lui c'è già una cantante e quindi lei va a seguirlo mentre lui realizza il sogno che sarebbe stato anche di lei vedete di cosa parlavano quando erano a letto lei diceva vorrei farlo cioè cantare in un posto più grande lui sarebbe stato egoista dire viene con me continuiamo a stare così felici insieme ma la felicità di lei sarebbe stata assolutamente a metà era come se per lui per lui era come chiederle di sacrificare il proprio sogno per coltivare il suo e quindi non lo fa come vi dicevo ammiro la maturità di Ren in questo momento e è molto triste e anche per loro è un momento di passaggio sono alla fine della scuola e sta iniziando l'università bisogna decidere esattamente come per Nana Komatsu, Junko, Shoji e gli altri che cosa fare della propria vita e questa bella band che ce l'ha stata presentata lì all'inizio vabbè abbiamo visto solo un paio di scena ma comunque avevamo visto un bel gruppo affietato di amici sta per sciogliersi perché comunque dove lo trovano un altro come Ren e alla fine dice Yasuo anche io dovrò mollare tutto perché deve probabilmente diventare avvocato anche lui d'altra parte è anche giunta l'ora no di smettere di giocare però Nobu non era pronto per tutto questo forse è meglio se ti cerchi un'altra band quindi lui proprio perché è un po' più segnatore perché magari è una posizione più sicura nella vita eccetera caschiala sempre in piedi forse lui può ancora permettersi di giocare a questa cosa forse quella che non gioca da questo punto di vista è Nana perché qualche talento ce l'ha è una bella ragazza ha una voce particolare però alla fine è triste stiamo assistendo alla fine ecco perché si è partiti in medias res sembrava una bella situazione stabile e invece sta andando tutto allo scatafascio io rimasi disgustata dice Cleo da questa scena e dal fatto che dopo una cosa del genere quella tra Nana e Ren sia considerato una grande storia d'amore interessante addirittura Cleo dice vigliacco sono molto curiosa intraprendiamo questa discussione ragazzi ditemi anche la vostra adesso leggerò tutto quello che avete detto però come vi dicevo io non lo trovo affatto vigliacco con il senno di oggi col senno di allora sì comunque era stato un pochettino vigliacco perché non gliel'aveva detto subito ma non ha aspettato poi così tanto e oh di nuovo da donne viene da dire vigliacco da donne innamorate avere un tizio che si comporta così ti viene da dire bastardo vorresti menarlo e bla bla però se ti amava però allo stesso tempo amava la possibilità di inseguire il suo sogno che doveva fare era ovvio che avesse un minimo di reticenza a mollarti a mollare Nana Osaki ma almeno lo ha fatto vi dicevo guardate tante storie di vita storie di gente che continuano ad ascoltare su TikTok di uomini codardi davvero che non mollano tantissimi e che aspettano appunto si allontanano piano piano le loro attenzioni amorose o in generale emotive diminuiscono e poi danno la colpa a te perché tu sei cambiata tu non mi dai più quello che vuoi che voglio bla 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 ma in realtà è una cosa che hanno deciso loro ok e finiscono per farsi lasciare ma perché non hanno il coraggio di essere loro a mettere fine alla storia almeno questo ragazzo no questo lo ha fatto quindi non lo trovo vigliacco personalmente vediamo che cosa però ne pensate voi Shannara dice stando a quello che ricordo il sentirsi insufficiente era una costante nel rapporto tra Nana e Ren sia lei nei riguardi di lui che vedeva raggiungibile nel suo talento sia lui nei riguardi di lei Ren non si riteneva capace di poter salvare Nana qui ritengo che ci sia la deriva della Yazawa in seguito perché lei tutti i rapporti li vede in questo modo per ora ok in quello che vedo qui vedo maturità da parte di Ren in quello che ha fatto posto che adesso tu stai dicendo poter salvare Nana ora come ora vedo solo un ragazzo di cosa 18 anni in quel momento lì si può prendere sulle spalle un'altra persona vedete che una parte di lui lo diceva comunque lui ci aveva pensato per un attimino nel senso forse potrei fare così potremmo fare figli per dire già il fatto che ci avesse pensato e avesse la risposta pronta significava che in una qualche parte del suo cervello lo aveva considerato come possibilità forse di portarla con sé e sì volendo se diventava famoso va bene che non sarebbe stato tanto a casa ma i soldi li avrebbe avuti allora sì potevano sposarsi far famiglia ma avrebbe reso felice Nana da questo punto di vista no e è strano comunque che uno come lui lasciando stare tutte queste faccende pensi di non poter salvare qualcun altro se davvero ha avuto quel background lì e quindi non ha mai avuto una figura genitoriale qualcuno a cui sentire di potersi appoggiare è normalissimo che non senta di potersi prendere cura di un'altra persona e già tanto si ha salvato se stesso gli si chiede troppo tra l'altro persone così di solito diventano avoidant cioè quel tipo di persone lì che sono un po' a disagio con la manifestazione dell'affetto e tendono ad allontanarsi quando un'altra persona si avvicina troppo non sembra questo il caso di Rem e forse era così solo con Nana perché poi si diceva che lui era un donnaiolo che se le faceva tutte quindi probabilmente non le richiamava bla 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 proprio il fatto che lei sia sfuggita per un pochettino lo ha preso secondo me adesso vedrò poi leggendo il resto della storia quindi vabbè spellerazzolette ma tanto come vi dicevo conosco già abbastanza le vicende è il tipico caso di due persone che sono giuste l'una per l'altra ma non lo sono in quel momento della loro vita lì troppo giovani quando si sono conosciuti Shannara diceva Clio il crucio di tutto è sempre stato il bagaglio di problemi che i vari personaggi si portano dietro non puoi trovare la tua salvezza esclusivamente in una relazione sì e quindi quello che fa Ren qua mi sembra giusto non... in effetti anche se fosse stato il fidanzato migliore del mondo in questo momento Nana doveva trovare quella che era la sua strada da sola sarebbe stato sbagliato comportarsi come avrebbe fatto una Nana Komatsu che avrebbe sposato Ren immediatamente via vivevano lì e lei faceva la mogliettina sistemata per la vita ma Nana aveva altra aspirazione oltre a quella di essere amata ma perché Reira dice Marty Reir Leila ha una discendenza americana e quindi riesce ad avere una buona pronuncia inglese cosa molto difficile per i giappi solo che in Giappone non lo sanno del background di Reira quindi credono che sia un dono divino ah il fatto che parli bene inglese oh my god allora Clio grazie mi sta facendo un bel discorso come vi dicevo nel caso poi qualcuno di voi stia guardando il video in differita mi raccomando ditemi la vostra perché è molto interessante Clio diceva non discuto la scelta di Ren che probabilmente ha fatto bene come dici tu ma il fatto che non ne abbia nemmeno discusso con la sua compagna mi sembra una relazione abbastanza superficiale se una scelta di vita così importante non viene nemmeno discussa e la veiaccheria averglielo comunicato così a un passant come se niente fosse e non averlo detto lui direttamente a Nobu ma aver incaricato Yasuo di farlo perché avrebbe dovuto dirlo direttamente lui a Nobu perché erano in gruppo allora sì cioè quello che dici tu sarebbe corretto ma tu ti aspetti da un ragazzo di cosa 18 anni in questo momento un livello di maturità che è da una persona di 30 è una scelta difficile quella che sta prendendo e a quell'età di nuovo avevo probabilmente la loro età quando leggevo questa cosa una parte di te si sente da schifo nel tradire i propri amici soprattutto questi amici che probabilmente erano stati quanto di più vicino aveva avuto una famiglia però non poteva prendere una decisione diversa era dura e ecco quando tu dici non ne ha nemmeno discusso con la sua compagna mi sembra una relazione abbastanza superficiale è una relazione superficiale hanno 18 anni anzi hanno già fatto tantissimo nell'andare a convivere non poteva essere più matura a questo livello qui proprio perché a quell'età in realtà non sai neanche chi sei tu come fai a sapere cosa sei in coppia c'è chi è fortunatissimo e si costruisce piano piano nella vita ma hanno avevano altri desideri e altre aspirazioni cosa tu ti dici non viene nemmeno discussa cosa doveva discutere in quel momento lì è vero che erano convivevano da un po' certo ma infatti non è maturo in assoluto che cosa doveva discutere farle pensare che c'era la possibilità che lei andasse a stare con lui ma non era così alla fine a 18 anni doveva pensare per se stesso sarebbe stato sbagliato farle credere che poteva prendersi cura di lei non lo era sì è immaturo ma è chiaro sul fatto che è immaturo e che non è pronta a prendersi cura di lei sarebbe stato sbagliato al contrario farglielo credere e farlo credere a se stesso illudendola per poi deluderla in seguito questo sarebbe stato terribile anzi probabilmente altre persone l'avrebbero fatto e ecco non è solo maturità da parte sua probabilmente anche un po' di paura come vi dicevo non era abituato ad avere una famiglia eccetera quindi come non sa neanche come prendersi cura di un'altra persona e quindi lo fa probabilmente anche per comodità non me la sento di prendermi questo peso Nana probabilmente non gli sarebbe stata di peso allora c'è da dire che lui non glielo dice eccetera perché deve esserci il dramma e questa la Yazawa piaceva e se invece l'avesse comunicata in maniera più matura non ci sarebbe stato dramma e forse sarà penso però che sarebbero arrivati lo stesso a dire che lei con lui non ci poteva andare così forse gliela ha resa un po' più facile non che lui lo abbia fatto per questo come vi dicevo l'ha fatto per propria comodità ma se le avesse avesse provato a discutere e avesse provato a dirle io vorrei che tu venissi con me l'avrebbe messa in difficoltà perché lei non avrebbe voluto mettere fine alla storia ma allo stesso tempo non pensate che ci sarebbe rimasta male da morire con lui che stava realizzando il sogno e lei invece che non aveva più i blast perché non li aveva più ed era rinchiusa in un tipo di vita che non faceva per lei e questo lui lo poteva capire già da sé cioè lei non era una comune era uno dei motivi per cui si era innamorato di lei a fare cosa la trascinava a Tokyo e sembra che si conoscessero abbastanza lo dirà tra poco per capire che la relazione non si sono mai detti a Dio ma la relazione non aveva senso di andare avanti così perché erano entrambi molto fisici non erano il tipo di persone non erano uno shoji e una nana komatsu che si scrivevano le letterine gli sms ci rivediamo qualche volta perché il loro stare vicini fisicamente era quello che serviva a rassicurarli certo hanno altre mancanze altri drammi rispetto ad altre persone però lo sapevano almeno si conoscevano da questo punto di vista che se non si fossero visti tutti i giorni anche per questo probabilmente sono andati a convivere ok? perché vedersi in continuazione rafforzava il legame senza la presenza continua come qualcuno di voi stava dicendo questo continuo bisogno di un po' di non sentirsi sufficiente per l'altro quindi c'era un desiderio di essere rassicurati sarebbe stato un incubo per entrambi non solo per nana osaki ma anche per lui pensare mi sta pensando no no non se lo possono chiedere questa cosa qua mi sta pensando mi ama ancora no probabilmente la rassicurazione continua veniva appunto dalla convivenza dal vedersi dal parlarsi sarebbe stato pesante per entrambi cercare una relazione perché non erano ancora abbastanza maturi per amare in quel modo così totalizzante era giusto che amassero prima se stessi tutti e due Henry dice Ren secondo me è stato paradossalmente molto coraggioso effettivamente ha realizzato il suo sogno ma con la consapevolezza di non averlo fatto insieme alla persona che amava e di non averlo fatto per lei avete mai visto La La Land? io l'ho visto tre quattro anni fa e volendo c'è una storia simile spoiler se non l'avete visto adesso apro la mano quando inizio lo spoiler e poi la chiudo è la storia di un'attrice e di una jazzista che si incontrano a Los Angeles lui vuole aprire un locale di jazz lei è un'attrice spiantata che cerca di sfondare si amano si trovano artisticamente emotivamente è una bellissima storia d'amore eccetera ma mentre stanno insieme all'improvviso proprio perché stanno insieme ecco forse anche questo sta molto influenzando la mia visione di questa vincenda qui mentre stanno insieme all'improvviso la vita reale si intromette devono trovare una casa innanzitutto per stare insieme lui comincia a vendere un po' la propria arte si dà al poppo che non lo rende felice ok pur di guadagnare più soldi per comprare qualcosa di più per loro e nel mentre tutte e due cercano di continuare a realizzare il proprio sogno ma lui si è già venduto un po' e non è più così contento come prima e lei e lei invece forse ad una certa sta acquisendo una una bella opportunità e adesso il mega spoiler allora lei riesce a guantare l'attenzione di qualcuno di importante perché fa una prova meravigliosa in un piccolo spettacolo teatrale si lasciano si lasciano perché lei deve andare a girare a Parigi e fanno un discorso molto maturo su questa cosa qui nel senso che capiscono che lei se ne va è un po' come questi due qui lei se ne va e che fa poi la vita d'attrice sarà muoversi in giro per il mondo e lui non era più così contento appunto di vendersi e il suo sogno invece era rimanere in quel posto lì per costruirsi il suo locale si lasciano e cinque anni dopo lei è diventata un'attrice famosissima e lui ha il suo locale e lei si è sposata con un altro va per caso eh in un nuovo locale che hanno aperto che sta avendo una bellissima fama perché appunto fanno jazz e scopre lui lì al piano lei col marito e lo vede in quel momento e anche lui la vede e fa questa canzone qui una roba che mi ha strappato le lacrime che non sapevo di avere in cui nella sua testa immagina tutto quello che avrebbe potuto essere per loro ok avrebbero potuto sposarsi avere figli magari uno dei due avrebbe dovuto rinunciare al sogno ok perché era proprio logisticamente incompatibili incompatibile però non c'era un rimpianto da se potessi tornare indietro cambierei no perché separatamente avevano realizzato i sogni che avevano da sempre e quindi quando lui chiude la canzone si guardano un po' come per dire so che avremmo potuto essere queste insieme però separatamente abbiamo comunque raggiunto qualcosa di importante quindi lei poi va via col marito non si ferma neanche a parlargli lo guarda solo un ultimo momento prima di uscire e se ne va ok e quindi il finale di quel film lì insegna un po' che ci sono coppie giuste nei momenti sbagliati e può sembrare una grande ingiustizia ma alla fine si tratta di scelte che si fanno nella vita e non ce n'è una la verità è questa spesso purtroppo che rende tutto facile che ha una scelta che fa avverare il tuo sogno e il tuo sogno d'amore è una cosa più da favole e la vita a volte non lo è non significa appunto che sia sempre una tragedia si tratta di sapersi lasciare dietro forse alcune persone sapendo che hai fatto anche il loro bene nonostante tutto perché se insieme a quella persona ti fossi dovuto deformare per essere qualcuno che non eri solo per ah perché lo amo e voglio stare insieme sarebbe stato peggio Nana se fosse andata con Ren a Tokyo si sarebbe trasformata in quel tipo di donnina che lei non era non voleva essere Shanara dice in modi diversi Ren e Nana erano due vittime della solitudine Henry dice sì molto bello la Len ma troppo triste certo troppo triste appunto perché era una bellissima storia d'amore che non si è concretizzata nel modo in cui si pensava Henry dice infatti io credo che Ren volesse veramente Nana accanto a lui però abbia avuto fiducia in lei l'ho sempre vista come una forma d'amore o forse non ha voluto prendersi la responsabilità di rendere la vita di Nana infelice può essere tutte e due le cose appunto perché era un ragazzino nonostante tutto però quello che prova poi lo vediamo qua tra poco nel senso che qui torniamo anche indietro nel tempo quando Nobu si era unito ai Blast e stavano cercando una cantante ed erano state molto chiare una bella ragazza innanzitutto che sappia cantare bene però non era così fondamentale innanzitutto l'estetica era importante come vi dicevo per conquistare fan e Nana l'amica di Nobu era venuta a trovarli ed era la prima volta in effetti che si parlava con Ren e ecco da vera avoidant come vi dicevo cioè da una persona che non è abissuata a gestire le proprie emozioni perché le figure genitoriali di riferimento non le hanno insegnato ad essere affettuosa cosa fa appena vede questo ragazzo che le piaceva tanto che ammirava eccetera le viene l'imbarazzo ma questo non solo lei magari chiunque alla sua età non sapendo gestire queste emozioni era passata solo a restituire una cosa a Nobu gliela dà non vuole neanche fermarsi a parlare scappa e nel mentre Ren invece la insegue che è di nuovo quello che vorrebbero tutte le ragazze cioè io sono troppo imbarazzata da parlare a quello lì però lui mi insegue vedete questa scena molto molto poetica e c'è sempre questo linguaggio da smemoranda come vi dicevo nel mio cuore c'era tempesta e gridava forte 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 ma sembra una canzone di musica leggera italiana grazie al potere d'attrazione che rendeva che Ren esercitava su di me divenni come il mare che si increspa che si increspa sto per dire una cattiveria sembra una canzone di Taylor Swift ma c'è un motivo se tutte cose simili hanno un grande successo vedete il momento in cui lei in questo senso è molto simile in questa scena a Nana Komatsu non si sente degna anche lei in fondo come Nana Komatsu come tutte le ragazze sta cercando di dirti alla Yezawa vorrebbe che qualcuno in un momento travolgente le dimostrasse che anche se lei non si sente abbastanza invece una persona luminosa come lui può sceglierla e adesso sembra che stia deridendo tutto questo però lo derido è il modo drammatico in cui viene posto drammatico barra poetico ma è una sensazione che in fondo abbiamo tutti e la Yezawa è trasparente con se stessa come vi dicevo lei riesce a descrivere così bene tutte queste emozioni perché invece di vergognarsene o paradossalmente pensare che lei non è in grado di esprimerla e lei lei è molto coraggiosa nel dire io lo so che cosa si prova in quei momenti e quindi lo descrivo in maniera poetica ma anche drammatica e faccio vedere il dolore profondo di un adolescente ma non solo non solo del mio pubblico di tutti noi quando ci sentiamo indegni ma qualcuno in realtà è una favola alla fine qualcuno in realtà quel qualcuno che vorremmo quel qualcuno che ammiriamo può vedere in noi qualcosa di speciale Nana ti prego diventa la cantante della mia band le emozioni straripante si trasformarono in voce mi dispiace ma in manga romantici in italiano troppo cringe dice Henry in inglese suonano meglio in che senso in manga romantici in italiano troppo cringe non ho capito a quale storia ti sta referendo ok e vedete poi il sogno si concretizzò e era un sogno moderno comunque perché ok non si erano ancora messi insieme tra l'altro non era come quella di Nana Komatsu che voleva solo la strellina d'amore no lei è diventata una cantante guarda qui che stilosa che figa che talento non era solo non era stata scelta dal bel ragazzo per essere la sua innamorata no era stata scelta per brillare quasi anche più di lui lei sta al centro quindi questo era molto bello comunque non è stato per Ren dice infatti Nana Osaki che ho deciso di cantare se finora ho continuato a farlo è stato per me stessa e infatti sta facendo delle riflessioni se non erro fa la commessa in questo negozio intanto viene a trovarla a Nobu ha ottenuto il suo diploma e infatti lì sta cercando di consigliare a Nobu di comprare qualche bel libro Nobu le vuole chiedere insomma che cosa farà seguirà Ren a Tokyo invece di disperarsi di cercare consiglio come faceva Nana Komatsu la Osaki dice sei venuto qui convincermi per rimanere perché ti senti solo senza di me vedete sembra tipo un aggiunco lei è abbastanza matura da scherzare su questa situazione da non mostrare la propria debolezza almeno non mostrarla con un ragazzino come Nobu solo che lui così bimbo non è anzi le chiede appunto di affrontare la questione e non solo le dice anche ok loro stanno facendo la loro vita Ren sta per debuttare Yasuo vuole passare la onda degli adulti a studiare ma io e te comunque si vede che loro come vi dicevo sembrano un po' una Nana Komatsu una Giunco ma più uniti dall'arte tra l'altro e dalla voglia di fare musica io e te andiamo anche noi a Tokyo cerchiamo un altro chitarrista e mettiamo la prova in nostro gruppo vediamo dove possiamo arrivare so che diventare professionisti non è una cosa facile ma lui ecco lui crede nel talento di lei credo che le tue canzoni potrebbero funzionare non hai una voce splendida le dice però è molto particolare molto rock e a me piace un sacco quindi dobbiamo provarci ora è vero che quindi Nobu è un po' un figliolino di papà come viene detto però nonostante tutto un po' di coraggio ce l'ha soprattutto nell'uscire dagli schemi in quella società giapponese vedete Nana Osaki che faceva la forte quando sente che qualcuno ha questa fiducia in lei un attimo crolla e mostra le sue vulnerabilità perché quando qualcuno dimostra davanti a lei di essere sicuro di sé lei può permettersi di lasciarsi andare un po' e infatti poi piange lui le dice so che anche Yasula pensa allo stesso modo se parti anche tu dici che se ne andrà dalla band e lei in questo momento non è pronta ad affrontare queste decisioni e infatti una parte di lei pensa alle parole che avrei voluto sentirmi dire da Ren non dirmelo tu però d'altronde ecco certo che avrebbe voluto che il suo ragazzo le dicesse andiamo a Tokyo proviamoci lei lo avrebbe seguito subito sarebbe stato il coronamento perfetto del loro sogno cioè io e te insieme contro il mondo e probabilmente ce l'avrebbero fatta questa è la cosa triste e noi lo sentiamo cioè lui con la sua bellezza e lei anche col suo talento e la sua bellezza avrebbero sfondato però a volte è vero anche che il talento e tutto quanto non basta per entrare nel mercato discografico quindi poteva rimanere un bel sogno e lui non poteva permettersi di rischiare non con il background che aveva e lei un pochettino di più appena appena però era troppo presto per loro e e quindi lui adesso ha fatto ha preso un'altra decisione e vedete in questo momento lei in realtà si sente sconfitta grazie a Nobu ma ho deciso di restare probabilmente anche la rottura di questa relazione l'ha resa debole non ha il coraggio che a Nobu facciamo il salto non è una nanakomatsu pronta a mollare tutto yeah andrà tutto bene no no lei qualche patosta l'ha subita dalla vita e non se la sente no Nobu prova a farle coraggio ha intenzione di separarti da Ren anche se non potreste suonare nella stessa band vivreste comunque insieme c'era questa soluzione lei che lo segue e invece lei dice io ti dico che non è possibile l'altro prova a rassicurarla prova a dirle probabilmente tutto quello che le obiezioni che vengono in mente a noi come lettori soprattutto adolescenti ci dispiace no vedere una storia d'amore che si distrugge in questo modo e la maniera la trovi per stare insieme allora diremmo così lui prova a dirle non ti tradirà perché prima tradiva tutte le altre a te non ti è tradito nemmeno una volta significa che ti ama davvero e non è questo il problema lei dice questo lo so anche io però ecco qui questo è il vero motivo per cui Ren non le ha fatto neanche la richiesta di andare con lui perché la conosce guardate adesso lei cosa afferma con coraggio e con forza la mia vita non si limita all'andare a letto con Ren perché se fosse stato un tipo di ragazza diversa probabilmente lei non avrebbe peso la pillola a un certo punto vi dicevo che questa è una scelta molto forte nel Giappone di allora qualche altra ragazza sarebbe fatta mettere in cita e fine lui mi deve mantenere vita felice io devo fare la mogliettina che poi si vede ad un certo punto che non è esattamente quello che succede poi a tutte le ragazze giapponesi oramai perché è cambiata anche un attimo la mentalità e vedete guardate la forza e un po' la rabbia con cui la Osaki dice anche io vorrei potermi guadagnare il pane facendo musica e questo Ren lo sapeva di lei cosa se la portava dietro a fare a generare la invidia perché lui stava seguendo il suo percorso e lei no e lui non poteva più sostenerla in questo avrebbe significato castrare la sua vena musicale giorno dopo giorno e Nomu in realtà diceva ok no ti piace fare musica andiamo a Tokyo e lei invece è un po' più pratica adesso non posso se ci andassi adesso finirei per trasferirmi di nuovo a casa di Ren non saprei trattenermi si conosce sa che finirebbe col cedere e Nomu di nuovo non capisce che c'è di male in questo c'è che Ren acquisterà una posizione sempre più importante in un importante band che ha già una cantante bravissima ecco lei è fuori da quei giochi così le mie speranze di un debutto da professionista si assottiglierebbero e finirei per aspettare Ren a casa cucinando come una brava mogliettina lui lo sapeva questa cosa almeno la conosceva non l'ha messa nella posizione difficile di dirle io vorrei che tu venissi con me probabilmente lo avrebbe voluto ma lei si sarebbe odiata alla fine così non ho nessuna intenzione di vivere così e non penso che lo dica solamente per lui non mi vuole allora ti è io non ho nessuna intenzione di vivere così certo è amaro comunque perché lo amava e avrebbe voluto che lui glielo chiedesse però avrebbe finito col dirgli di no secondo me o se no gli avesse detto di no sarebbe andata con lui e poi sarebbe stata triste e alla fine sarebbe finita comunque solo che a quel punto sarebbe stata colpa di di Nana non sono triste davvero ma è triste al posto suo no perché capisce che insomma questa era una bella relazione e invece lei non è come la la Komatsu che si disperava posto che anche Nana Komatsu ad una certa non si era mai arresa no in un qualche modo si è messa a trovare un lavoro pur di raggiungere Shoji nonostante tutto sono personaggi che si fanno i drammatici ma poi in un qualche modo combattono per i propri sogni e Nana si sente un po' spronata da quello dal successo a cui andrò incontro Ren voglio migliorare la mia tecnica e così convincermi di valere anche se non c'è Ren questo mi sembra importantissimo per lei per la sua crescita e poi un giorno andrò finalmente a Tokyo anche da sola se necessario lei ovviamente è anche abituata a stare da sola perché come vi dicevo la nonna non era certo la sua più grande alleata Nobu accetta questa cosa e è come se l'autrice ci chiedesse di accettare questo finale non felice noi ci sentiamo come Nobu in questo momento qua e Nobu si rallegra solo perché almeno l'unica cosa buona che ci sarà in tutto questo è che lui rimarrà lì e quindi continueranno a rimanere amici almeno lei rimarrà lì fino a che non cambierà qualcosa ci sono le ultime pagine di questo volume One Instante adesso le carico perché non le avevo caricate almeno non le pagine di questo volume le pagine di quest'ultima parte qui aspettate la sto caricando un istante ma se non sono le ultime pagine perdonatemi erano molte di più ok e vedete sono tornate a scherzare sei sincera la verità è che non vuoi cantare se non sei accompagnata della mia chitarra dico bene e se la ridono e intanto un altro momento di backtrack torniamo indietro alla prima volta in cui Ren e Nana sono andati a letto insieme che poi paradossalmente significa il momento in cui hanno effettivamente iniziato la loro storia d'amore perché fino a quel momento nonostante l'attrazione di lei per lui e probabilmente viceversa erano compagni di band ma una volta gli era andata bene insomma un concerto lei aveva ricevuto questa tipica torta natalizia sì in Giappone hanno una torta di Natale questa la panna con le fragoline da una fan Merry Christmas Nana e in Giappone probabilmente lo saprete oramai si è seguita tanti mango anime il Natale è considerato una festa da innamorati il fatto che loro lo stiano passando insieme quindi è significativo anche se ancora non è deciso tra loro addirittura scherzano sul fatto che Ren scherza magari te l'ha data perché insomma pensa che tra noi c'è qualcosa e quindi vogliono avvelenarti e lei dice allora mangiala tu la torta e lei scordatelo non rischia lui non scordatelo non rischia la morte e qui le ruba insomma il primo bacio adesso sei davvero colpevole puoi morire senza pensieri colpevole di cosa di averlo acchiappato e ovviamente lui le leccia il dito di panna e quindi cedono al reciproco desiderio vedete sempre queste lacrime di Nana per dire allora non mi ho immaginato tutto ti piace anche io eccetera eccetera sì c'è sempre questo senso di non riesco a credere appunto di essere stata abbastanza per te che coglie tantissimo il desiderio la sensazione che ha qualunque adolescente e poi erano andati a letto insieme lui prova a dirle qui dentro batte un cuore innamorato e quindi non è che ti sto portando a letto tanto per e come vi dicevo hanno cominciato subito a vivere insieme e non è stata secondo me una scelta matura nel senso discutiamo di che cosa significa questa cosa no semplicemente era un abbiamo bisogno di rassicurazione nonostante sembriamo dei duri e quindi tu stai passando tutto il tempo qui perché entrambi ne abbiamo bisogno vieni a vivere qui non cambia nulla è stato un idillio ecco che infatti non ci viene affatto vedere più di tanto qualcuno di voi diceva che Ren si ispirava a Sid Vicious infatti lì dietro c'è scritto Sid and Nancy Ren mi ha regalato la gioia di cantare pensa Nana mi ha insegnato a suonare la chitarra e mi ha dato il piacere di vivere una cosa che prima lei non aveva avuto perché comunque veniva da questa vita così un po' amara con la nonna eppure cosa ho fatto io per lui ecco ha questa sensazione probabilmente ecco qui è abbastanza chiaro non viveva con una nonna che la faceva sempre sentire come se dovesse dimostrarle qualcosa che non le dava mai la paghetta che la trattava come se dovesse scontare gli errori di sua madre quindi come se Nana Osaki fosse lì per espiare alle colpe della mamma e dimostrare di essere una figlia differente quella che invece si dimostrerà degna dell'educazione che le sta dando questa nonna di quel pochissimo affetto che le dà e quindi probabilmente quante volte si è sentita dire tu che cosa fai per me è normale quindi che lei dica adesso che si senta con tutte le persone della sua vita io cosa ho fatto per questa persona qui posto che per indole probabilmente a differenza di una nonna Komatsu che avrebbe continuato a dire per favore voglio solo che tu mi voglia bene io sono una brava bambina che fa tutto lei invece era lì non me ne frega niente tu non mi vuoi dare amore chi è e io mi comporterò da teppista però in realtà dentro di sé come chiunque avrebbe voluto che invece questa nonna le dicesse ti voglio bene a prescindere da che cosa fai ma dentro il suo cuore è scolpito questo pensiero che cosa ho fatto io per la persona che amo e se non ho fatto qualcosa allora che gli servo perché è stata cresciuta così ha più senso che questa nonna abbia questi traumi piuttosto che l'altra nonna Komatsu per quello mi sembrava un po' strana l'altra nonna Komatsu cioè da dove ti deriva questa debolezza emotiva in lei la capisco lei ha fatto comunque molte riflessioni se adesso andassi a Tokyo con Ren anche se non potremmo più fare musica insieme potrei almeno preparargli da mangiare pulirgli la casa tutti i giorni una parte di lei comunque siccome lo ama tanto vuole cedere a questa tentazione e lo domanda anche chissà forse quella è la via giusta sarei più felice così anche se Clio diceva giustamente Ren avrebbe dovuto discuterne e penso che questi pensieri li abbia fatti anche lui e come dicevo si vedeva in quel dialogo in cui diceva potremmo avere figli non penso che un ragazzo in particolare dica cose del genere se non ci ha fatto un minimo pensiero lei comunque lo comprende per quelli come noi che non hanno una famiglia costruirsi una casa in cui vivere sereni è ancora più necessario che realizzare i nostri sogni sicuramente lei avrebbe voluto anche questo certo è una mancanza che sente però in realtà proprio perché è stata abituata a gestirsi da sola adesso io non so come va il resto del manga non ditemelo comunque lo so a grandi linee so che non finisce bene però una volta raggiunti i loro sogni in teoria in quel momento sarebbero stati pronti a vivere una vita serena stando insieme è anche vero che il tipo di carriera che si sono scelti implica il dover essere andare in giro per il mondo stare continuamente separati quindi era comunque complessa ed è arrivato il momento della partenza di Ren in realtà e Nana non sta litigando così tanto da non essere andata a salutarlo anzi ci sta andando e Nobu saluta Ren anche Ren in un qualche modo si scambiano la sigaretta vedete quello veramente triste sembra Nobu mentre Nana è ancora dietro a Ren ma la loro la loro disperazione in realtà e il loro amore li mostrano solo quando sono da soli l'uno con l'altro questa appunto è una di quelle scene molto carine che di nuovo con tutto quel nero anche sono sempre stilosi devono essere stilosi anche nel momento del dramma quando sono andati oltre le porte Yasu e Nobu non li possono più vedere allora lei si lascia andare lui alla chitarra e non la stringe più di tanto forse la stringe con sì la stringe con una mano anzi però non tanto da trattenerla e è lei che piange lui apparentemente no anche perché in Giappone era vista come una cosa non da veri uomini lei scappa al momento del grosso dramma lui è entrato dentro il treno e Nobu che è un bravo amico vedendo la disperazione di Nana rincorre Ren forse per dirgli torna torna insomma guarda cosa sta succedendo e trova il finestrino in cui si è seduto Ren e vede anche lui sta piangendo Nobu piange per gli altri Nobu saremmo noi in questo senso che piangiamo perché vediamo Ren che pure lui piange quindi non è una cosa che avrebbe voluto fare neppure lui e non era una storia leggera dopo un anno e tre mesi di convivenza con Ren a 18 anni erano proprio giovani all'inizio di una primavera ancora spruzzata di neve insomma la loro storia d'amore ebbe fine e con lei che piange non ci dicemmo addio perché era come se non ci fosse bisogno di usare le parole per definire in generale in tutta la loro storia l'inizio della loro storia le cose accadevano naturalmente perciò infatti lei dice sapevamo che vivere separati sarebbe stato fatale per entrambi telefonate e lettere non hanno alcun valore se non ci si può abbracciare perché ogni notte sentivo che Ren vomitava dentro il mio animo eh? cos'è questa cosa? vomitava cosa? lasciamo stare una tristezza inesprimibile a parole ah la tristezza pensavo altro scusate sì anche Ren era un animo tormentato anche lui ha senso che sia attormentato lei dice lo sentivo meglio di chiunque altro proprio perché comunque erano molto simili entrambi abbandonati poco importa che Nana Osaki fosse stata cresciuta dalla nonna la nonna non l'aveva mai fatta appunto sentire necessaria o che le voleva bene a prescindere da che cosa facesse buon Natale siamo i Blast questo era il loro passato i momenti felici che avevano passato insieme come gruppo i giorni che vivo senza Ren uno dopo l'altro mi sembrano impossibili eppure il tempo è passato in realtà e noi vediamo Nana Osaki che sta aspettando in una stazione e c'è un cartellone i Trapnest Winter Garden nuovo singolo ed eccolo lì Ren vicino tra l'altro alla cantante e insomma è diventato famoso Ren quindi ha avuto ragione nel fare questo salto lei riceve ancora delle lettere dal Akiko da una delle fan che parla del fatto che Ren è diventato famoso non ci sono più i Blast sì o hanno continuato a essere Blast con qualcun altro sì sì sto guardando qui le persone che componevano il gruppo c'è Yasu c'è Nobu c'è Nana e l'altro non è più Ren quindi sì infatti sotto adesso vedo c'era un altro tizietto quindi sì hanno continuato a fare a giocare in fondo quindi Yasu non doveva andare da nessuna parte per un po' hanno continuato e lei quindi riceve ancora i regalini delle fan ormai sono passati un anno e nove mesi da quando mi sono lasciata con Ren è una vita per un'epoca per una ragazza così giovane sono stati insieme un anno e tre mesi adesso è passato un altro anno e nove mesi da quando sono lasciati per lei la cosa è ancora viva però di fatto è passato un sacco di tempo a marzo compirò vent'anni come vi dicevo vent'anni ha un'età assolutamente cruciale nella vita di un giapponese c'è addirittura una festa per festeggiare i ventenni perché significa i diciottenni ok come dire gente che è veramente adulta in tutti i sensi si può iniziare a guidare dai 18 anni però a vent'anni si acquisiscono tutti i diritti insomma di un cittadino pieno e quindi è in quel momento che diventi davvero adulto mi sono comportata così bene che ho deciso di farmi un regalo un biglietto di sola andata per Tokyo quando dice mi sono comportata così bene è come se secondo me stesse usando la voce della nonna dentro di sé che le diceva devi comportarti bene solo allora puoi concederti qualcosa e non aveva rinunciato al sogno quindi di sfondare anche lei però prima magari doveva risparmiare un attimo e ha deciso adesso adesso si sente pronta non per Ren ormai è passata la storia vedete lui è in un'altra stratosfera adesso magari si è pure messo con quella cantante per quel che ne sa lei ora lei sa che se va a Tokyo non è per ridursi a fare la mogliettina è per se stessa e per inseguire questo sogno che era la cosa che davvero le avrebbe le avrebbe permesso di realizzarsi come bagaglio porterò soltanto la mia chitarra e un pacchetto di sigarette che ti ucciderà i polmoni e la voce ma allora era ancora un concetto proibito continua questa scena era fatta molto bene perché faceva credere all'inizio che lei stesse partendo con lui dice Cleo ah interessante questa interpretazione no io non l'avevo pensata così sarà perché sapevo che non andavano insieme però sapevo che invece non sarebbero partiti insieme che lei era solo lì insomma per sostenerlo e che stavano negando fino all'ultimo l'evidenza proprio perché in realtà come vi dicevo io ho trovato che lui fosse stato corretto nei suoi confronti soprattutto all'interno della loro relazione ok lasciando stare quello che pensiamo noi lei lo conosceva lui la conosceva e quindi lei non ce l'aveva con lui alla fine paradossalmente sapete che cosa penso per quanto ovviamente i ruoli dei sessi fossero sarebbero stati diversi insomma se a lei fosse capitata la stessa occasione lo avrebbe lasciato lei in questo caso mettiamo facciamo questo giochino se a lei fosse stato offerto un ruolo da qualche altra parte in un'altra band si lo avrebbe colto al volo e Ren non sarebbe andato con lei un po' perché era un uomo e quindi andare dietro a una donna e farsi mantenere da lei anche no però al netto quindi dei dei ruoli dei loro generi sessuali sarebbe andata nello stesso modo non credo che lei l'abbia pensata in questo modo però dentro il suo animo lo riconosceva sì dialogo un pelo ambiguo diceva anch'io quando ho visto la scena ho pensato ah quindi va con lui diceva Marty ah vedete ah l'avevate pensata così come dicevo io non mi ricordo che cosa pensai nello specifico in questo momento qui ma non ho pensato che ci sarebbe andata insieme penso Henry dice sapendo come continua la storia sono sempre più convinta che soffra di più Ren sarebbe anche normale so poi cosa succede più in là nel senso che lui abbia grossi trombi psicologici nonostante tutta la sua apparente sicurezza in sé perché è proprio una persona che non ha mai avuto nessuno al contrario e forse questa era la prima persona intendo Nana a cui si era veramente dato un poco e però non poteva finire così posto che non si sarebbe neanche potuto innamorare di una ragazzina invece semplice che avrebbe voluto seguirlo perché non sarebbe stato pronto a gestire una persona così bisognosa d'affetto Nana osaki era perfetta per lui al contrario e poi abbiamo questa giunco per un attimo questa è una pagina di presentazione come sarebbe a dire dove sono nate a voi che ve ne importa e all'improvviso posto che non ho capito se ho tutte le pagine qui torniamo a Nana anche un mazzo per un attimo no queste sono pagine così che stanno sono un po' di raccordo forse salve a tutti cari lettori allora il manga vi è piaciuto ah sì è una è un discorso con i lettori comunque se ricordate come andava avanti il manga anche perché così iniziava l'anime con le due Nana che si incontravano nel treno e ci sarà appunto la particolarità di tutte e due che si chiamano Nana pur essendo così diverse adesso adesso la sensazione che ho avuto rileggendo adesso oggi quando ho fatto questa mini analisi iniziale è che mi sembra di essere passata veramente da un manga all'altro la storia di Nana Ozaki mi ha preso molto di più di quella di Nana Komatsu e non so voi io non c'avevo voglia di tornare alla storia di Nana Komatsu non me ne fregava niente di Nana Komatsu fatemi vedere Ren fatemi vedere Ozaki soprattutto volevo che lei diventasse una cantante magari che la facesse vedere anche magari che ritrovasse Ren ma soprattutto volevo che lei avesse successo io voglio leggere di questo e invece la Yazawa mi propina quella piaga scusate di Nana Komatsu e lo dico come vi dicevo soprattutto per non tanto perché odio in sé Nana Komatsu mi ha fatto vedere l'altra volta che la trovavo persino Tenerella a tratti molto molto caruccia però è molto meno carismatica di Nana Komatsu quindi perché dovrei tornare a leggere di lei Marti conferma che il primo episodio dell'anime era il viaggio sul treno Marti dice soffre di più Ren perché almeno Nana prova ad andare avanti invece Ren fa finta di nulla e reprime il suo dolore non lo trovo strano considerato il suo vissuto almeno c'ha un senso che si comporti così mentre quella che non ha senso che faccia la drammatica per tutto è Nana Komatsu o meglio in realtà ve l'ho detto c'è un trauma anche nel vissuto di Nana Komatsu che deve essere il trauma che c'è nella vita di Ayazawa solo che non deve essere per forza non avere i genitori avere i genitori che ti picchiavano eccetera a volte può essere semplicemente un genitore distante un genitore che ti ha fatto sentire come se non fossi importante che non ti ha dato abbastanza attenzione ti può far diventare una persona come Nana Komatsu soprattutto se è particolarmente sensibile e bisognoso di affetto solo che a quel punto specie anche in Giappone uno magari si sente in colpa perché ho tutto una casa mi è andata a mangiare a scuola e tutto quanto mamma era in casa veniva a trovarmi poi era in casa eccetera cosa mi è mancato io non lo so io so solo che sono incompleto che voglio che qualcuno mi ami però come fai a raccontarlo ti viene quasi da dire a te stesso che scusa ho per essere così disturbato e allora è piuttosto è più semplice scrivere la storia per esempio di una ragazza che è stata abbandonata dalla madre di un poveretto che è stata abbandonata dalla nascita allora ce l'hanno il diritto di essere così o quantomeno è più chiaro al lettore perché sono così piuttosto il disagio di Nana Komatsu è una cosa che si comprende di più quando invece che essere adolescenti magari si è si è persone più adulte oppure ancora sicuramente tanti adolescenti che si sono sentite anche come Nana Komatsu e c'era questa idea la Yatawala diceva all'inizio che era normale essere così da ragazze da donne e tante donne tante giovani adolescenti avranno detto sì se anch'io mi sento così è normale e io che non ero un adolescente così pensavo no non è normale per un cavolo non mi piaci Nana Komatsu e non voglio leggere la tua storia vabbè quel poco di persone che accanto che sono la sua famiglia dice Henry ah si riferisce a Ren lui ha tradito la sua famiglia praticamente Henry dice c'è da dire che Ren non lascia solo Nana ma tutta la sua vita è vero è vero sì 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 Henry dice l'anima inizia sul treno perché faceva più effetto non è stata una scelta sbagliata anzi è un po' strano al contrario questo inizio in due tempi tipo due prefazioni prima conosciamo una protagonista e poi l'altra ha più senso metterle tutte e due e poi al massimo tornare indietro in medias res Hachi è la protagonista perfetta dice Henry di uno scioglio scolastico Nana è un personaggio a tutto tondo possiamo dire a prescindere le sue vicende sono più interessanti perché non è solo comunque la sua vicenda amorosa appunto ma anche il suo volere emergere e fare qualcosa col talento di cui è stata dotata dalla natura mentre invece Hachi a parte volersi innamorare cosa vuole fare nella vita? si capisce fin dalla primo volume che ah sì voglio studiare a moda eccetera però ma non mi impegno abbastanza manco ad entrare in una scuola prima c'è entra il mio fidanzato io mi sobbarco tra lavoretti e sì il bello è che la maggior parte delle persone un po' è come lei ok non siamo tutti superstar però forse proprio per questo era un pochino più noiosa a livello di protagonista di una storia perché il punto focale di una storia è che deve raccontarti qualcosa con Hachi ecco la chiamo così adesso come la chiamata ormai tutti è la banalità che viene raccontata non sembra più la storia di quanto lei si continua a degradarsi pur di ottenere attenzione da qualcuno o almeno così l'ha presi al tempo se sarà ancora così ve lo dirò la prossima puntata giuro che pensavo di aver fatto una diretta molto più breve invece è durata un'ora e quaranta è stato in generale un piacere rileggere questa parte qui l'ho letta molto più velocemente di quanto abbia fatto la parte di abbia fatto con la parte di Nanakomatsu perché era molto più interessante quindi un mini sondaggio fra tutti quanti anche voi avreste voluto che questo manga parlasse solo di Nana Osaki e Ren e i Blast e i Trapnest perché io da non amante del rock mai sentita ragazzina M bla 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 questi di questi volevo leggere chi se ne frega di Nana Komatsu ma forse sono solo moi forse sì come dicevo probabilmente anche perché se c'è una cosina con cui mi identifico in Nana Osaki è il fatto che anche io tendo a magari essere più dura fuori e tenera dentro dicevo così mi porrei come lei non ho bisogno di nessuno di niente mi gestisco da me quindi può darsi che ci sia anche questa preferenza personale e invece vorrei sapere se per voi era diversamente virgola mi chiede quante puntate farò di Nana dipende idealmente un volume alla volta un volume della vecchia edizione italiana però vediamo Hachi no Marti dice sì anche tu avresti voluto leggere solo di Nana Osaki in realtà a posteriori dice Henry Hachi è interessante perché rappresenta il conflitto di una forma che vuole essere una forma che vuole essere moderna e come Nana no aspetta non qui c'è sempre un problema non c'entrate affatto voi c'è il fatto che nella mia chat mi appare un cuoricino per mettere la reazione e appare proprio al lato dei commenti sovrastandoli e quindi non riesco a leggerli come si deve che vuole essere moderna come Nana ah come Nana Osaki ma non ci riesce il conflitto di una donna che vuole essere moderna come Nana ma non riesce diceva Henry sì vi dicevo inizio 2000 e posto che il Giappone dal punto di vista dell'evoluzione della figura della donna è indietro rispetto a noi di almeno una trentina d'anni all'occidente mi riferisco sì c'è questo nonostante siano avanzati tecnologicamente quanto è più di noi c'è c'è questo conflitto e la Yazawa comunque ha avuto il grande merito di essere stata coraggiosa nel raccontare di personaggi non perfetti comunque sia lei per quanto fosse talentuosa ma anche Nana Komatsu questo sì soprattutto personaggi che non erano le solite eroine degli shoujo pure dolci che non sbagliavano mai il mondo contro di loro la Yazawa ha avuto il coraggio di raccontare di una protagonista come la Komatsu che si distruggeva con le sue stesse mani per quanto era fallace virgola dice può risolvere il problema del cuoricino aprendo la chat in una nuova finestra ingrandendo la finestra come lo sai conosci questo programma OBS no no non credo di poterlo no non non si risolve grazie ma è un po' è un po' strano dipende cioè se si sposta un po' dipende poi da quanto è lungo il messaggio vedremo lei non è capace di emanciparsi come se stessa ma vuole farlo imitando Nana dice Henry e questa cosa che stai dicendo mi riporta alla mia teoria iniziale che come mi dicevi poi era di tante altre persone se non me lo dicevi tu credo come lo diceva Marty cioè che in realtà la Yazawa quando parla di Nana Komatsu descrive se stessa e quando parla di Nana Osaki descrive la donna che avrebbe voluto essere non solo lei ma tutte quante magari anche le lettrici le giovani giapponesi di allora che avrebbero tanto voluto essere rivoluzionari sicure di sé eccetera ma alla fine finivano con l'essere delle Nana Komatsu nella vita reale ma dentro di loro avrebbero tanto voluto essere una Nana Osaki che osava che viveva al massimo infatti l'autrice dice Henry è molto avanti non come l'autrice di Mars ma la apprezzo ugualmente Fuyo Misorio sì no lei è un'altra roba quanto ho amato Mars di Fuyo Misorio oppure che dite un giornale nel Zia ma anche quello l'ho adorato disperatamente infatti l'ho ricomprato nella nuova versione lì quello sì l'ho mai tantissimo molto più di Nana in effetti anche perché quella sciocchina di Kira mi somigliava un attimo di più era più semplice da accettare per esempio una Kira come protagonista di Mars di Fuyo Misorio lei partiva come la tipica ragazzina timida verginella bullizzata una tipica protagonista da scioggio poi in realtà dimostrava una forza incredibile per altre cose però era più semplice come protagonista di una storia non era una ragazza che avresti potuto odiare perché in certi momenti poi credo che si odi anche Nana magari per la sua testardaggine Henry dice sì Nana Osaki è un personaggio platonico platonico Mars giura è divino dice Marty anch'io volevo essere lei ah dici Nana Osaki no io non avrei voluto essere lei perché appunto non avevo questa deriva musicale però era un personaggio con cui era molto più facile per me identificarmi a livello caratteriale Henry dice Mars lo rileggo una volta al mese io sono Anna io non lo rileggo però quando lo rileggo mi ci immergo che pure lì drammi ne abbiamo dice Marty sì i drammi però vengono più dall'esterno per la protagonista femminile mentre invece quello con drammi interni ed è un personaggio maschile molto molto ben fatto è appunto Ray Cashino e niente mi stavo in mente che voglio parlare pure di quel manga ah no allarghiamoci ditemi casomai poi nei commenti se un giorno sareste interessati anche a questo perché io fangerlerai dall'inizio alla fine e sarei molto felice di farlo però intanto vorrei innanzitutto continuare con con Nana una cosa alla volta tanto Mars rimarrà lì dove sempre nei nostri cuori e nelle nostre librerie magari ragazzi ragazze sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate magari se ho fatto qualche riflessione che non vi ha visto d'accordo assolutamente vorrei sapere la vostra in ogni caso quale delle due Nana ammate di più anche se sembra una domanda un po' retorica avete appunto anche voi la sensazione che questo manga sarebbe stato migliore se non ci fosse stata Nana con mazzo di mezzo Henry diceva Nana Osaki è un personaggio platonico nel senso di idealizzato un po' troppo improbabile nella realtà sia quel tipo di personaggio cioè proprio per il fatto già che diventa una cantante in quante diventano cantanti una sommiglione cioè a livello di con questa fama sì è un'eroina quando un giorno dice ma mi paragonarono ad Hachi mi senti profondamente offesa litigare con questa persona scusa sto ridendo no riesco a capirti leggo per bene quando un giorno mi paragonarono ad Hachi mi senti profondamente offesa litigare con questa persona per un bel po' no dico che rido un pochettino perché sarebbe stato anche molto da Hachi offendersi il tigare per una cosa del genere cioè per essere stata offesa anche virgola dice dopo Nana fai Mars Henry dice vogliamo Mars io voglio Mars sì voglio Mars però credo ad ora di avere nella mia nel tempo della mia settimana solo una serata alla settimana per manga molti personaggi sono protagonisti sono un po' improbabili diciamo dice virgola il protagonista ce l'ho aggiunto io sia normale dicevo per questo è più complesso scrivere di un personaggio banale ordinario e raccontare qualcosa di interessante però infatti la 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 con la con Hachi non scrive esattamente qualcosa di interessante è un no una specie di incidente in corso di svolgimento al grandissimo rallentatore cioè non fa che combinare casini uno dopo l'altro e lo guardi un po' perché insomma vuoi vedere fino a che punto crollerà la sua vita però non è esattamente una storia edificante Henry dice Hachi dà senso a Nana ce la dobbiamo sopportare vedrò vedrò se avrò questa sensazione quando andrà più avanti immagino di sì comunque non è stata di molti quindi mi raccomando fatemi sapere la vostra anche indifferita e fatemi sapere se voi avreste detto qualcos'altro che magari a me è sfuggito leggendo questa parte qui se anche voi siete stati conquistati subito da Nana Ozaki avete visto prima l'anime o il manga io ho visto prima il manga prima dell'anime non sono stata conquistata come quasi tutti quelli della mia generazione dalla messa in onda dell'anime su MTV anzi l'ho recuperato come si deve solo un cinque anni fa se non erro e mi ha conquistato la colonna sonora le opening e le ending meravigliose questo sì però mi era piaciuto già tutto quello che vi dicevo qui cioè certe atmosfere e il carisma dei personaggi personaggio migliore della serie Nobuo chi è Nobuo? ah ok sì Nobuo però che Nana dice a Marti come manga fosse stato meglio senza Hachi perché le due si completano senza Hachi sarebbe stato troppo too much tu parli con la coscienza di quello che è avvenuto dopo terrò presente questa osservazione magari più in là finirò con concordare con te chi lo sa Clio dice esiste anche live action non lo voglio sapere no non lo so sarà che appunto mi interessa relativamente anche perché per quanto siano disegnate in maniera realistica credo di aver avuto presente live action ma scusa questa è una roba mia non trovo certe giapponesi belline come lo sono nel manga cioè ci sono delle giapponesi e delle orientali stupende ma alcune altre specie nel live action no non sono belle come me le immagino che siano dal manga così come le leggo Henry dice ne esistono due cioè a parte uno e due di live action è già tanto se ho guardato l'anime per quanto l'anime il character design dell'anime rispecchi molto fedelmente quello del manga penso che le versioni disegnate dalla Yazawa siano comunque più belle rispetto a quello che ho visto nel manga Marty dice live action è davvero caruccio voi mi volete sfidare e sfidiamoci nana live action vediamo le immagini no vedete che mi piglia male un sacco di robe allora la tizia che fa nana osaki in realtà è caruccia anche la tizia che fa nana komatsu anche se già mi sta antipatica dal broncetto è una cosa che mi ha sempre dato fastidio in realtà ma è una cosa mia sciocca infatti poi col tempo vedendo il drama mi sono abituata i capelli tinti delle giapponesi per me stanno malissimo a quasi tutte soprattutto questo marroncino sfumato rossiccio che sta male a un sacco di loro no infatti già mi dà una scena di non è vero mi dà una sensazione di fittizio però vedo che le attrici non sono male in effetti tra i live actions in effetti è quello fatto meglio beh in questo caso è abbastanza semplice considerato che appunto è una storia abbastanza realistica è su prime video io ogni tanto lo riguardo ah addirittura su prime video no no non lo guarderò non lo guarderò perché ho già tanta roba da guardare virgola dice nel manga sono troppo idealizzate trovare bella e brava recitare è molto difficile per fare i live action sì concordo gli outfit di Hachi oddio no non mi stupisco gli outfit di Hachi nel senso che la moda dei giapponesi negli anni 2000 ma anche oggi ma soprattutto negli anni 2000 lasciava molto a desiderare ecco ma per esempio ecco scusate sto vedendo adesso altre foto del live action di Nana le ragazze ancora ancora ma Ren sarebbe quello lì no no aspettate visto che sto facendo questo discorso adesso posto la foto che sto guardando che no cos'è cos'è sta roba cos'è sta cosa qua io finisco sempre per fare discorsi all'ultimo momento ecco cos'è sta roba Yasu vabbè che sembra un 45enne vabbè questo sarebbe Ren ma chi è mio zio Pino c'è uno strafigo stellare nel manga chi è questo qua questo burino no no anche lei anche la la Osaki qui sembra una 35enne con problemi di dipendenza no in un'altra foto l'ho vista molto più carina non so era un'attrice diversa no sembra sempre lei o non lo so no Ren è interpretata da due attori nei versi nella prima e nella seconda parte ah ok perché nella prima parte è più bello dubito sto vedendo un'altra cosa e non mi sembra più bello mio zio Pino Ren guardate di che è sta roba no ragazzi no no non si sono impegnati comunque gli attori cambiano ok ma sto guardando altre immagini e non mi sembra più bello nell'altra versione quindi no mi sta bene vedere la versione animata e il manga perché Takumi cosa si è fatta ai capelli mi sembra rimango uguale solo Nana sì in effetti sì no 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 va bene allora mi raccomando non dimenticatevi di seguirmi anche la prossima settimana per il giorno specifico vi faccio sapere nella bacheca quindi iscrivetevi al mio canale se siete interessati al contenuto magari seguitemi anche su Instagram anche se mi sa che su Instagram presto dovrò fare due profili diversi perché in quello è il fedre che uso sempre sto mettendo un sacco di contenuti royal e finisco per confondere un po' le cose Takumi sembra Renato zero nel giorno di Gloria sì esatto Nora non ha mangiato bene per le riprese del live action putarsi ma stai ironizzando o è davvero così virgola non mi stupirebbe nessuno dei due casi ok con questa edificante immagine che vogliamo presto dimenticare vi lascio e ci vediamo la prossima settimana settimana se vi va alla prossima